Due nuovi dispositivi per la pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo, grazie ai quali piccoli pazienti potranno essere monitorati direttamente al loro letto e i dati trasmessi in tempo reale agli operatori sanitari. Un'importante sinergia tra le nostre risorse e le risorse che può emettere la cittadinanza. Sono a favore del nostro reparto di pediatria e di neonatologia con questi strumenti che servono per misurare tutti i parametri vitali e che permettono anche a bambini di avere un servizio qualitativamente migliore. Due importanti macchinari del valore complessivo di quasi 10.000 euro, una centrale di monitoraggio wifi con monitor multiparametrico e carrello portamonitor donato dalla sinergia fra i Lions, un'azienda del territorio e con il supporto del comitato a retino e neonatologia. al cui si aggiunge un monitor per la misurazione dei parametri vitali sempre provvisto di carrello donato dal gruppo Frates Donatori Sangue e Rigutino. Il cuore dei Lions ha battuto ancora una volta per la pediatria donando uno strumento multifunzionale che è in grado di registrare, monitorare parametri vitali nei bambini che sono affetti da patologie impegnative. i Lions sono donne e uomini che vogliono portare il loro volontariato umanitario a favore della comunità retina. Sono monitor molto efficienti che monitorizzano una serie di parametri molto numerosi e vitali, importanti e la cosa più importante è che sono collegati, collegabili con una centrale monitor via wifi e questa centrale monitor anch'essa frutto di donazione dell'Associazione Lions.